signori buongiornissimo beh immagino che come avete potuto capire oggi ci andiamo a divertire con lo strigliatore della treffler infatti non andremo a fare sarchiature ma andremo a distendere il compost non ti rubo troppo tempo con le chiacchiere andiamo a vedere subito in campo il tutto però prima per andare a lavorare bene bisogna andare a tensionare un po i cavi e le molle tutto questo lo andiamo a fare con questa chiave super figa guardate che robetta accendiamo il bcs ci sediamo sul seggiolino in modo che stiamo belli comodi abbassiamo l'attrezzo e andiamo a distendere per bene tutto il compost perché questo perché se lo distendiamo bene avvengono cose all'interno del terreno e soprattutto lo vado a distendere un po uniformemente perché non lo vado a fare col rastrello col badile perché ho notato avendo fatto un test che passando una due volte oltre a togliere un po di infestanti un po di erbe secche sul terreno e a rieggiarlo un pochino anche se poco perché veramente compatto lo distende perfettamente quindi non devo andare a fare fatica io però con lo stesso scopo quindi attaccando il bcs con lo strigliatore magari mettendo dei distanziali il moto coltivatore puoi passare sopra le prode sopra le culture a lavorare il tutto cioè se io volessi potrei preparare tutto il terreno magari quando vado a fare una semina ad esempio vado a seminare tutto questo nuovo campo di erba medica in un futuro oppure altre coltivazioni le faccio crescere un po attacco l'attrezzo e vado a sarchiare il tutto magari questo qua lo vediamo il prossimo anno se l'attrezzino mi resta quindi preparati che ne vedrai delle belle se ti iscrivi ovviamente beh ora viene un attimo la che regoliamo il tutto e partiamo subito la vai ad attaccare qua su due fori a caso tiri questa sicura e vedi molto semplicemente la vai a regolare senza questa chiave qua non ce la faresti perché comunque c'è sono tanti cavi e tante molle io l'ho messa a 8 ora vediamo se va bene se no la vado a mettere a 9 per capire se va bene basta un attimo provare a chiedere qualche dente si sembrano belli tensionati ora vedo se grattano per bene il terreno se no li vado a tensionare un altro po come velocità vado abbastanza veloce vado via in terza con quasi tutti i giri del motore perché questo per i cosi di tutti i denti vibrano bene uscirano bene e sparpagliano il tutto perfettamente e soprattutto vanno a grattare un po il suolo anche se poco perché è veramente molto compatto considera che questo qua è un pezzo di erbaio quindi sono passati trattori su trattori e con la costruzione della serra siamo passati con veramente di tutto e con la costruzione della serra è un pezzo di erbaio appena finito di fare tutta la sarchiatura all'interno della serra mi sono reso conto che nel terreno ho un po' fresato perché avevo provato a fare delle prove di fresatura per vedere quanto duro era il terreno quando non pioveva e con la fresa della bcs ce l'ho fatta fresarla perfettamente più o meno una fresatura una passata a 8 cm ovviamente ho regolato l'altezza tramite il precision di proller ti faccio un video appena si secca il tutto o appena copriamo la serra che iniziamo a fare lavoretti all'interno e ora che stavo pensando devo ancora raccontarti un po' tutta la storia beh ma arriverà presto arriverà devo solo capire quando iniziare a pubblicare i video se con il nuovo anno oppure già adesso staremo a vedere però credo con il nuovo anno trigliatore proviamo a preparare un pezzo di terreno fresato come puoi vedere diciamo che questa qua sarà una futura proda possiamo dire una futura proda lunga 50 metri larga 80 cm dove ora con lo strigliatore ci passerò sopra e vediamo come viene fuori un po' il risultato perché quello che ho in mente è comunque ok preparo la proda ma se il terreno è abbastanza morbido magari prima passo con il ripuntatore quello che avevo costruito e dopo passo con un attrezzo del genere magari riesco a sminuzzare il tutto e non uso la fresa quindi faccio una sorta di minima lavorazione non uso organi che vanno a fare lavorazioni invasive perché alla fine sono dei dentini che vanno a grattare un po' la superficie e se vedo che il risultato è buono fidatevi diventerà il mio migliore alleato perché faccio la proda faccio la coltivazione trincio quello che resta vado a lavorare il terreno con un attrezzo che andò a costruire quindi una specie di ripuntatore un estirpatore adesso vedremo passo sopra con lo strigliatore e si può subito trapiantare i nuovi ortaggi questo qua mi fa risparmiare un sacco di tempo e soprattutto andiamo a migliorare il suolo metti che magari ci aggiunga un po' di compost passo con questo e sono a posto mi piace molto il risultato è vero che il terreno è bagnato che è pongo perché guarda cioè è pongo e seconda cosa servono dei distanziali perché come hai potuto vedere con la ruota passo sopra alla proda però guarda e guardando il risultato e pensandoci bene con il ripuntatore quando c'è il terreno in tempra viene fuori un lavoro pazzesco perché se è bagnato e viene fuori un risultato del genere pensa a te se lo vado a lavorare in profondità quindi vado a smuoverlo molto di più perché comunque ora è compatto ha piovuto sono andato giù 70 mm di pioggia in 12 ore quindi si è compattato in una maniera incredibile pensa a te se è in tempra ripuntatore attrezzino la tac pronto per essere seminato spettacolo sono tutte le infestanti che va a togliere guarda proprio le toglie l'erba medica che c'è non riesce a toglierla perché è una radice fittonante però non è proprio tanto vero guarda ti pulisco il fittone voilà questa qua è una radice di erba medica vedi qua c'è il fittone che è stato rotto e qua ci sono le foglie guarda anche questa l'ha tolta perché succede questa cosa qua che va a togliere piante così grosse perché ho regolato la macchina in modo a fare una lavorazione molto più aggressiva se io vado ad allentare un po' i cavi un po' i denti vado a tenerla leggermente più sollevata con un'inclinazione del dente diversa non va a togliere quindi va a togliere soltanto la piccola infestante beh che dirti per oggi è tutto noi ci vediamo ad un nuovissimo video spero che ti sia piaciuto anche questa avventura iscriviti al canale e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti